bellissimo bella bellissima la canne in piega un attacco molto potente bruno rapti in pesca col magneto 175 infallibile guardiamo un po questa cattura speriamo di portarla a casa bellissimo ragazzi un altro bar rosso molto interessante bellissimo bellissimo ragazzi stiamo salendo d'italia andiamo subito immediatamente alla misurazione ragazzi siamo benissimamente cerchiamo prima di islamarlo senza recare alcun danno perché ci dobbiamo pensare poi al rilascio vediamo un po stiamo comodamente sto un attimino fermo 65 ragazzi 65 si va arrivarci via è andato ragazzi alla prossima ecco qua ragazzi siamo al 50 52 ragazzi si va rilascio via ragazzi buongiorno il bruno rapto siamo sul 50 ecco qua ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti